ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un altro episodio dedicato ai vostri video eccoci qua come ogni tanto accade con questa simpatica rubrica dedicata a voi che state guardando con l'esposizione delle vostre collezioni di orologi con le vostre raccolte con i vostri percorsi che avete scelto e soprattutto con i vostri gusti è interessante vedere come le persone ogni persona sia diversa una dall'altra come giusto che sia d'altronde poi io essendo diverso da voi è ognuno diverso sono quello che dà poi il proprio parere perché siete voi che me lo richiedete io lo do non è che mio sia un parere fondamentale per proseguire nella vita no lo prendete con le pinze ci divertiamo e alla via così come si suol dire no vi ricordo che dovete realizzare video in orizzontale anche con lo smartphone massimo sette minuti dai un po concisi veloci no pratici pragmatici e poi lo inviate le indizioni che vedete qua sotto la procedura è sempre la stessa fai facciamo vedere l'orologio del giorno dai anche oggi lo si vede già la braccialetto qua braccialetto è il mio bellissimo brightling cronomat gmt 40 mm calibro etta 28 93 bracciale super bellissimo orologio che a me con gmt non mi serve a una cipa di niente però l'ho preso perché bella è bella la sfera rossa si vede la sfera rossa e allora uno si diverte un po la gmt non mi serve a niente non mi serve a niente cosa l'ho preso a fare gmt non si sa passiamo al primo video dai su ciao davide sono io mando un breve video per farti vedere il mio ultimo acchiappo che è questo seco 5 sport uscito per il 55esimo anniversario del primo 5 sport del 68 è un orologio che mi è sembrato subito interessante mi piace molto la cassa vintage così fatto che finalmente abbia un fondello chiuso è un orologio che è un'edizione limitata comunque insomma 15.000 pezzi già si trova male a prezzo di listino si vede già prezzi alzati sulle varie piattaforme e volevo sapere se te era capitato di vederlo cosa ne pensi se ti piace e poi ti voglio confermare che con un 100 metri corona a pressione si può nuotare sono appena entrato in acqua ci ho fatto anche un tuffo e l'orologio fortunatamente è ancora vivo ti voglio un saluto ciao ma certo ciao 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 di Livornese di dove sei vabbè non mi dice niente cioè non è che ora ti dice anche a prezzi maggiorati lo vendono io recentemente ieri ora non so quando andrà in onda questo video ma un paio di volte l'ho visto su amazon al suo prezzo quindi basta basta un attimino ora poi finirà perché se edizione limitata ma a me non è che mi dice molto tanto di più cioè un bello orologio ma non è che ci mirerei tirerei sego 5 vale l'altro fondello chiuso magari sia un plus però bello poi con la corona a pressione 100 metri ci fai quello che vuoi specie se è nuovo no l'unica controindicazione della corona a pressione che è più facile che si apra perché se non è avvitata magari si si aggancia da qualche parte si può aprire quindi quando entri in acqua controllare sempre che la corona sia in posizione e che invecchiando si fa solamente affidamento sulle guarnizioni e invecchiando le guarnizioni invecchiano quindi l'infiltrazione può venire da lì mentre una corona vite anche quando invecchiano le guarnizioni c'ha sempre un minimo di sicurezza in più perché l'acqua deve passare dalla filettatura vabbè comunque bel video estivo bravo fai il bagno in piscina divertiti e noi qua prossimo video vai ciao davide ciao sono stefano stefano volevo farti vedere la mia piccola collezione di orologi bravo e parto da subito da due orologi al quarzo allora il primo è un g shock e vabbè un g shock classico skeleton era molto più trasparente prima adesso con l'estate col caldo e col sole è diventato un po giallino però a me piace così lo tengo così giallo bello è giallino mamma mia di più poi poi questo timex q chronograph l'ho preso in realtà me l'hanno regalato come alternativa al 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 swatch omega speedmaster sinceramente ho visto un po di un po di recensioni in giro e come alternativa dato che la qualità costruttiva del dell'omega swatch era un po un giocattolo questo mi sembrava avesse più più carattere panda reverse mi piaceva sono gli unici due al quarto che ho però secondo me merita è anche introvabile ora davvero è soldato ovunque va bene da sono contento un orologino va bene al quarzo cronografo ma è quello che io non riesco a capire no è l'alternativa al moon swatch della della swatch no perché c'è bisogno di avere un'alternativa c'è bisogno di avere un'alternativa al moon swatch sono un sacco di altri orologi non è che io tutti comprano il moon swatch allora io per essere più figo mi piglio l'alternativa al moon swatch ma e se cosa serve perché bisogna ragionare così perché non scegliere un orologio perché piace perché ci trovi delle caratteristiche perché ti ha colpito e dopo non ne puoi più fare a meno no l'alternativa a l'alternativa a l'alternativa a l'alternativa un par di palle insomma mi piace sono piccoli e oggi che ti farò vedere sono tutti piccoli dato con un corso abbastanza piccolo e poi passiamo al russo vostro comandischi k65 24 ore carino l'ho preso in realtà poco fa in periodo di guerra è arrivato ci ha messo un po ma è arrivato dalla russia è arrivato con un drone mi piace ma col quadrante bianco 24 ore particolare qualità non è al massimo ma ci sta io ho messo questo cinturino dato che quello che con cui è arrivato era veramente tagliente come anche la cassa però mi piace più elegante così vedo che sei convinto proprio proprio convinto un classicone citizen pro master fullium yes e niente a dire di questo orologio mi piace tantissimo mi piaceva tanto me lo sono comprato bravo anche questo è arrivato da poco e devo dire che è quello che attualmente invece di più inizio da dire proprio proprio bello anche il bracciale anche se non è il massimo io sono un amante degli bracciali in comunque in acciaio non di pelle eccetera va bene io devo dire che mi ha un po stufato è il volume del pro master in effetti alla lunga è un po anzi vi lancio qua un appello se qualcuno vuole fare uno scambio la pari io spedisco e spedisci con un citizen pro master di quelli blu mi piaceva il blu quello blu che c'avevo una volta l'ny0040 blu o al limite nero insomma non pepsi è però insomma io faccio lo scambio adesso qualcuno vuol farlo prossimo orologio psycho 5 sport street skx versione street è stato il primo orologio che ho comprato automatico nel 2019 e niente bracciale nato a me piaceva molto questa configurazione scura il classico psycho 5 ma si ci sta non è male non è male lo metto lo metto ancora volentieri anche se è un po pesante così tutto nero ma in realtà è leggibile è leggibile sembra di sì mi piace beh l'opaco si è bellino dai ultimo orologio eh cos'è? ho preso in questo qualche anno fa è un micro brand che se hai la possibilità ti consiglio di darci un occhio è questo axios ironclad è l'orologio più bello che ho è l'ultimo della mia collezione e monta una sellita sv200 e per il prezzo e le caratteristiche che ha un diver 500 metri è spettacolare ti ripeto se hai la possibilità di toccarne uno con mano magari faccio un pensiero io allora questo qui la qualità rispetto agli altri che ho che comunque sono dei begli orologi ma comunque tutti sotto i 300 euro circa questo qui già di una fascia più alta e sento sento la differenza infatti appena avrò le possibilità economica stavo pensando a un gran seico e beh a un gran seico per vedere com'è la qualità come? e niente questa era la mia collezione grazie a te ciao 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 beh gli orologini tutti simpatici questo qua l'ultimo micro brand lì che hai detto si si vede che è di qualità però non mi lascia niente di nuovo no la prima cosa che ho notato è ad esempio la ghiera l'inserto ghiera è veramente standard no cioè proprio i numeri classici messi così secondo me si potrebbe tentare una strada un pochino più originale qualcosa di un pochino più particolare no perlomeno uno sceglie un micro brand perché ti dà qualcosa di diverso dagli altri perché se mi fai un orologio molto molto simile mi passa la voglia però non so nemmeno quanto costa dipende anche dal prezzo però se l'ITS V200 costerà sicuramente un pochino di soldi comunque bel orologio bella collezione avanti così Gran Seiko Gran Seiko lo compri per vedere se è di qualità ma come compri un orologio per vedere se è di qualità compri un orologio se ti piace perché lo devi volere la qualità c'è sicuramente in Gran Seiko finiture c'è tutto c'è quindi ti devi innamorare lo devi volere devi contare i giorni che mancano a possederlo non mi sembri tanto convinto di tutte le tue scelte a vederti così comunque va bene andiamo avanti ciao Davide ciao mi chiamo Gabriele volevo ringraziarti per la bella community che hai messo in piedi grazie e mostrarti velocemente la mia raccolta di orologi da anfita certo vai allora come primo pezzo abbiamo questo Orient bambino a cui ho messo questo bracciale maglia milanese di strap code e lo uso come dress watch è il 41 mm un po' grosso per essere un dress watch ma ha un bel polso enorme da 21 cm quindi mi piace come sta a livello di proporzioni sì però anche qua il discorso livello di proporzioni in base al polso non è non è non è la stessa cosa cioè lo vedi un orologio quando è da 41 e un orologio quando è da 38 anche su un polso grande anche perché la circonferenza del polso è una misura che è in fingarda è in fingarda perché noi la chiamiamo circonferenza in realtà è un ovale facciamo finta che sia un rettangolo ok altezza altezza per larghezza io ho un polso come vedete molto spesso quindi 19 cm di circonferenza sono dati anche dalla somma di queste due altezze che è molto se uno ha il polso largo come il mio ma sottile è a 17 la larghezza sopra è la stessa della mia per cui ci stanno bene gli stessi orologi non è che se quello da 17 gli sta bene quello da 38 a meno mi sta bene anche a me perché la circonferenza comprende l'altezza che è l'altezza non c'entra niente lo vedete quanto bracciale mi si vede così in verticale tantissimo se fosse un polso normale non da super dotato come sono io sarebbe più sottile avrei un polso da 17 ma la larghezza sopra è la stessa l'orologio ci sta allo stesso modo capito cosa voglio dire quindi un orologio da 41 è inutile dire mi sta bene sul polso da passiamo a questo da Neri questo è un omage dell'Universal Genève Tricompax il cosiddetto Nina Rint si differenzia dal modello originale per il diametro della cassa che è 39 mm anziché 36 capito per il disegno di sottoquadranti per questa Maserati incisa sul fondello il movimento è un meca quarzo è un Seiko VK 63 o 64 se non erro mi piace molto mi piace anche a livello di a livello di finitura a livello di cura dei dettagli è abbastanza simile al Nezumi che avevi recensito tempo fa capito capito questo è un modello piuttosto nuovo un Citizen Eco Drive della edizione limitata si fa per dire a 7000 pezzi unite with blue che celebra la bellezza degli oceani e a questo quadrante che è stato fatto con delle vernici sviluppate da Fujifilm che diciamo riflette in maniera iridescente la luce con tonalità dal verde al blu mi è piaciuto molto adesso che c'ho tra le mani forse mi sembra un po' giocattoloso con questi colori di sicuro meno serio rispetto ai diver tradizionali però questo quadrante ipnotico mi piace davvero molto bravo questo è un Rotary un Rotary Simatic Henley simile abbastanza simile al Super 7 buona la qualità dei materiali mi piace la spallunetta in ceramica vetro zaffero unica nota dolente il movimento miota della serie 8 che ogni tanto ha qualche impuntamento attorno al secondo 55 la lancetta dei secondi va un pochino a scatti proprio il resto la qualità costruttiva è davvero buona come attorno al secondo 55 va a scatti le miota della serie 8000 sono notori in determinati casi ma non sempre non capisco perché non lo fa sempre che la lancetta va a scatti però dalla parte che va dalle ore 13 alle ore 18 intendiamoci quando va in discesa perché perché ha il rinvio dei secondi in diretti sarebbero secondi diretti che li portano al centro e fa un piccolo gioco per cui quando va in discesa diciamo al 55 non è mai capitato perché al 55 la sta trascinando verso l'alto e non ci dovrebbe essere gioco a meno che tu non lo metti così al 55 alla rovescia ma non lo mai sentito dire però è una cosa normale cioè non perde tempo è solamente un dente che se è quello che non non ingaggia subito ma recupera con questo bracciale tutto pieno questa clasp molto buona diciamo come fattura fattura andando avanti abbiamo un Timex a batteria batteria simpatico non mi piace il fatto che la lancetta la lancetta dei secondi continui sia quella più grande ma vabbè forse me ne disperò questo è un Orient Kano anche detto Big Mako piaceva moltissimo il quadrante Soleil e anche questo accostamento di colori con l'arancione con la punta dell'arancetta dei secondi arancione molto molto estivo mi piace molto come come diver purtroppo non ha il vetro zaffero quindi si graffierà con l'utilizzo poi mi sembra che è 44 mm bello un casio duro questo è l'MDV 107 non il 106 famoso Marlin peccato che non ha il Marlin ma vabbè io mi trovo benissimo con questo orologio perché è economico è robusto e lo porto volentieri al mare è un orologio che quando lo metto al polso mi ricorda subito l'estate i tuffi diciamo le nuotate al mare è una bella sensazione quindi ci ho messo questo cinturino di Orient in silicone che è molto molto morbido e anche elastico come si vede comodissimo sì però lasciami dire una cosa è un orologio solo tempo che ha la ghiera divisa in due metà come se fosse un GMT è un nonsense hai capito è solamente un fattore estetico che però a ben vedere dici ma perché l'avete fatta così potete fare come i diver normali con i primi 15 minuti o senza niente no l'ha fatta come fosse un GMT ma non è un GMT abbiamo questo che è il mio primo orologio il mio primo orologio automatico della collezione 6.5 sport un field watch da 42 mm piaceva molto questa finitura sabbiata della della cassa e anche diciamo la tridimensionalità della cassa che è dovuta al fatto che gli indici dei minuti si trovano su un piano rialzato rispetto al resto del quadrante ricevano molto queste caratteristiche e questo è stato il mio primo orologio automatico che ho avuto in collezione ultimo il Casio War Timer AE 1200 se non sbaglio è il mio orologio da lavoro lavoro nel settore della metalmeccanica e questo lo trovo comodissimo è leggero ha la sveglia per quando è ora di andare a lavoro ha il timer e il cronometrio lo uso come un tool watch da mettere al polso e da indossare senza preoccupazioni bravo grazie ancora Davide grazie a te complimenti ancora per il canale ti mando un caro saluto un caro saluto anche a te ma la collezione fa pietà cioè non è che fa pietà sto scherzando si tutti orologi un po' ha il quarzo è quarzon un quarzin quarzetti seico 5 direi che ora va bene hai fatto questo percorso fino a qua va bene così ma non stare a comprare altri orologi al quarzo o altri seico 5 cerca di una volta che ti sei divertito che hai esaurito la curiosità verso questi orologi cerca di venderli a quello che viene e viene e passare a un livello a un segmento superiore un orologio da 6 700 euro sotto i mille insomma un bello orologino anche un bel seco qualcosa che e ti elevi un pochino il tuo percorso anche perché se ti piacciono gli orologi vuoi imparare a conoscere orologi sempre migliori in teoria e quindi andai a comprare di nuovo un timex al quarzo un casio al quarzo un seco 5 un casio digitale basta passa qualcosina di diverso sei rimanato a settembre ci vediamo a settembre perché lì il mio voto può confermare o rimaltare la classifica buongiorno Davide sono Alessandro e volevo aggiornare sullo stato della mia raccolta un anno all'inizio di essere un anno e quindi iniziamo da quello che è stato il mio primo orologio automatico che è l'Orient Camaso io cercavo un orologio da acquistare con le caratteristiche di orologio meccanico automatico comunque non a batteria mi sono imbattuto in una tua recensione e questo rientrava pienamente in quelli che erano i miei gusti andiamo avanti mi sono innamorato così di diver e il secondo acquistato è stato lui ovviamente d'obbligo avere il signor Ermutanda full lume nella propria collezione premetto che io adoro variare molto i cinturini o i bracciali di questo posseggo il bracciale originale ovviamente lui non poteva rimanere solo ho dovuto acquistare assolutamente il suo fratellino nero che è questo qua ecco nero mi piace già ora ho cambiato gusto mi piace più quello nero di quello blu insomma il full lume mi ha stufato mi ha stufato o lo tengo e ne piglio un altro o faccio scambio con qualcuno nero mi piaccicchia dai anche perché ho l'SKX che è Pepsi e il ProMaster nero avrebbe il suo senso di coppiata al quale ho messo come vedi appunto il un simile tropic costato pochissimi euro però di ottima di ottima fattura è comodissima lo rende molto aggressivo ci sta bene ci sta bene bravo poi proseguiamo mi ero innamorato di lui grazie ad una tua recensione l'ho acquistato ho trovato il secondo polso da un ragazzo in Italia l'ho pagato praticamente per quanto costava nuovo era totalmente pellicolato non potevo assolutamente privarmene perché è un orologio che ho seguito per molti mesi e intorno a febbraio a dicembre sì a febbraio sono riuscito a trovare un secondo polso bravo di nota 9000 dial pazzesco e utilizzo quando dico che metto oggi va bene mettiamoci il reglio ed è lui everyday watch poi andiamo avanti con il pezzo un po' più costoso della mia collezione questo l'ho preso a gennaio il marf da 38 mm orologio anche lui precisissimo scarta 2 o 3 secondi al giorno questo è il suo movimento h10 80 ore di riserva di carica come sappiamo bene ho tolto il suo cinturino originale perché lo trovavo molto molto duro e rigido bello ci sta bene questo molto bello secondo me ci sta benissimo orologio che in estate sto un po' accantonando per ovvi motivi insomma si apri il cinturino ma si anch'io d'estate prediligo quei 6 7 8 diver che ho li faccio ruotare un po' e lascio indietro gli altri e poi dopo l'inverno rimarranno indietro loro e indosso quelli un pochino più come l'acqua terra gli orologi così c'è un periodo in periodo così si utilizzano bene anche gli orologi già faccio fatica a far ruotare 7-8 diver d'estate un giorno uno un giorno l'altro un giorno l'altro però ci devo riuscire perché altrimenti sono gelosi perché vogliono salire tutti sul mio polso si picchiano vogliono salire e io devo calma calma uno alla volta capito per la sua resistenza all'acqua preferisco avere meno pensieri con quelli che ti ho presentato prima passiamo a quelli che sono i vintage dopo lunghe ricerche dopo un po' di informazioni e il supporto anche di alcuni identi del gruppo anzi io saluto Faust che conosciamo tutti quanti il buon Marco che mi ha guidato spesso nell'acquisto di questi pezzi questo però l'ho comprato autonomamente è un valerbetta del credo degli anni 50 orologio con un quadrante a due toni è così nota il movimento è bellissimo l'ho aperto ovviamente non ho fatto io questo piccolo solco ed è veramente un movimento fantastico non ho appuntato da nessuna parte di che vuoi ora io non capisco perché all'interno dei numeri lo 0 del 10 il 4 anche nel 6 nell'8 ci sono quei punti messi così brutti non si capisce uno dice quando uno rivernicia alla bella e meglio il quadrante all'interno lì non ci riesce ad arrivare e ci rimangono delle schifezze però non lo so non lo so sinceramente cosa sono non è bello a vedersi però potrebbe essere che sia anche l'invecchiamento naturale del quadrante il movimento si tratti devo essere onesto però avrò modo di riferirlo magari in futuro andiamo avanti un altro fratellino un altro vile erbetta questo è l'ultimo arrivato dalla revisione perché io l'ho comprato a dicembre ed è stato 5 mesi in revisione cassa monoblocco è uno star fighter bello degli anni 50 yes ha purtroppo questo problema al plexi che è crepato dovrei trovarne uno originale la cassa è meravigliosa è una lama praticamente guarda te guarda anziché quante lavorazioni bello bello assai ma il discorso del vetro ma cosa te ne frega cioè a volte gli orologi sono belli perché sono vissuti no c'è il vetro scheggiato originale ma tienilo così non è che ci devi stare a spendere soldi per mettere uno aftermarket di un altro tipo perché poi è bello nuovo no tienilo così secondo me tanto più che funzionalmente non ti deve creare problemi perché te questo orologio non lo indossi quando vai al mare non lo indossi quando ti lavi le mani ok non farlo cioè evita quindi anche se anche se non fossi più impermeabile te lo preservi lo utilizzi con cura e quindi non io lo terrei così scheggiato ecco c'è suo perché perché questo qua è dell'anno biribin 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 vetro così perché ha passato tutta la sua vita a sbattersi contro i muri allora qual è il problema nessuno no meraviglioso altro vintage certina water king 215 bella cassa ricarica automatica anche lui revisionato piccolino 33 mm cassa a cuscino spazzolata nella parte frontale anche questa è molto bella bella trematic genève trematic by denator anche la ricarica automatica bidirezionale cassa in acciaio anzi è bellissima che degrada cioè degradano fanno il gradino insomma dalla cassa e anche qui abbiamo un quadrante bitonale è un lanco modello 11 deluxe il suo il suo movimento in house orologio che ha preso sicuramente un'unità dalla parte della corona che non è originale infatti qua si vede anche sul parlante questa macchia scura mi piace molto mi piace veramente tanto bravo anche a me se ne troverò un altro in condizioni migliori magari potrei anche pensare di cedere questo a pochissimi euro e prendere un fratellino uguale è bello così invece romero anfibio cassa vado blocca anche lui bello e orologio a ricarica manuale e insomma ho preso anche questo per pochissimi euro su vinted ha un piccolo una piccola riga qui sulla secondina però tutto sommato è un orologio che funziona bene anche lui da revisionare ci penserò fra qualche tempo yes e vorrei acquistare dei prossimi pezzi mi sta interessando tantissimo il nuovo Orient da 40 mm con le ghiere in acciaio non ti chiedo un consiglio perché io sono anche molto testardo quindi se parto con un'idea è molto probabile che io la metta in atto va beh e insomma questo è quanto io abbraccio te e anche l'amico Piero e ti ringrazio per il tempo che eventualmente deciderà di concedermi sul tuo canale ciao va bene bella collezione divisa in due parti orologi moderni contemporanei e orologi vintage anche begli orologini vintage tutta una serie di orologi anni 50 60 che hanno il loro perché specie quella Anco Deluxe che io terrerei così non è che perché c'è è sempre sotto discorso del vetro scheggiato c'è il quadrante che ha preso un po' di umidità lì e c'è quella alone e tiene quella alone è un segno della sua vita cioè non dobbiamo scandalizzarci se è come quelle che no vogliono se lo trovi in Os è un altro discorso ok se io vado in un negozio mi apre i cassetti e mi trova un orologio con cartellino del 74 cavolo lo prendo ben volentieri perché ho per le mani un orologio che è esattamente come 50 anni fa veniva presentato il negozio è come la macchina del tempo eccolo qua c'è l'orologio con cartellino perfetto bellissimo è una possibilità se no c'è la possibilità di comprarli vissuti e ha lo stesso lo stesso valore lo stesso godimento perché ha i segni della vita che ha fatto passando di mano in mano e ne avrà passate di mani e ci sono quei segni lì vanno tenuti anzi sono un valore aggiunto secondo me hai capito poi si vabbè tutti siamo quando vedi un orologio vintage ha posito un altro bello tenuto bene fa piacere però anche se non è tenuto bene è vissuto e quindi va tenuto così dai mi sto dilungando prossimo prossimo vai ciao Davide sono Lorenzo da Ferrara e voglio farti vedere la mia collezione di orologi ma va partiamo da una rapida carriata di orologi al quarto degli anni ottante sono ct 26 covari tutti perfettivamente funzionanti nostalgico sono di quegli anni e li conservo con amore perché mi ricordo la mia gioventù ecco questa carrellata qua una sensata collezione di orologi al quarto non dice gli orologi al quarto no no quando uno ha invece in idea un percorso un insieme di cose un motivo un concetto per fare la collezione di orologi al quarto eccola qua gli orologi degli anni 70 80 70 80 90 al quarto che di tutte le case casio seico citizen no quelle che facevano gli orologi al quarto perché in quel momento lì rappresentavano il top del top anzi quelli digitali così che uscivano era proprio l'avanguardia tutti volevano quelli no ora abbiamo un pochino lasciati da parte ma ha senso fare una collezione di orologi vintage al quarto ha senso anzi forse è anche più difficile mantenerla manutenerla nel senso che se gli succede qualcosa a qualcuno di questi qua però ecco un senso di orologi al quarto tanto per elevarli un pochino e questi sono gli orologi a batteria al quarto passiamo ad orologi un pochettino più importanti parliamo di un eberdal extra forte in oro bello top poi anni settanta sempre un omega lcd uno dei pochi rari che funzionano ancora un longines longines opposition eccolo lì longines opposition ho quello lì l'ho tenuto sotto controllo è strano è molto anni 90 lo vedi come come cassa l'ho tenuto sotto controllo per tanto tempo perché volevo comprarlo è solo tempo mi sembra poi alla fine ho preso il filippo voci macos con 77 50 sempre di quei periodi lì astrusi che era molto simile con questa cassa fatta così c'era un periodo che avevo questa fissa per queste forme insomma sono brutte però a me piaceva un braille un fossil un omega reducet il mio retring top il mio orologio rolex digest top e un emilton ce l'avo anch'io passiamo sotto passiamo sotto passiamo l'orologio di mio nonno un vecchio orologio che sono stati ristorato circa 15 20 anni fa parliamo di un'orologio degli anni 50 mamma mia un lorenz in oro mamma mia un eberhard classico meccanico automatico l'omega di mio padre bello questo un eberhard crono 4 insomma un filipo un citizen degli anni 70 citizen maserati cioffecca un altro cioffecca un braille e l'orologio di mio amore un peggio santo il mio ultimo acquisto un secco black edison ti ringrazio per il tempo grazie ti saluto e complimenti per la tua trasmissione complimenti a te per i tuoi orologi insomma i quarzoni all'inizio tutti con un senso poi dopo cercavi di sfuggire di andare veloce quando passavi sopra le cioffecca ma io le beccavo al volo cioè le vedevo proprio lì stack stack prese in pieno perché un po' ecco un altro termine che ho usato anche precedentemente un po' stantia come collezione sono tutti orologi veramente con un aspetto che piacciono a te contenti tutti però datato è veramente che non è ancora considerabile non è il fascino del vintage lo vediamo ancora con l'occhio del design che non piace capito vabbè comunque alla fine gli orologi sono tuoi contento te contenti tutti come si suol dire l'unico che spicca per contemporaneità no proprio non per qualità sono tutti di qualità per l'amor del cielo il bright link cronomat per contemporaneità è il Seiko ultimo che hai fatto vedere che è proprio un orologio moderno è l'unico che ha gli altri sono tutti o vintage ne ho vintage degli anni 90 2000 vabbè comunque diciamo che sei promosso sono magnanimo oggi ti promuoviamo anche perché Rolex brightling e ce li hai gli orologi omega ce li hai gli orologi dai promosso promosso mi sembra di aver detto tutto per oggi vi ringrazio quindi per essere arrivati fino a qua aver guardato i video con me spero vi siano piaciuti i video o perlomeno il presentatore me medesimo e vi ricordo gli appuntamenti fisici che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love grazie a tutti Grazie a tutti.